Le chiese possono rimanere aperte e si continuano a celebrare le funzioni. È necessario però che i fedeli si reclino solo nella chiesa nelle vicinanze della propria abitazione o al massimo all'interno del proprio comune, esibendo, se richiesta, l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale situazione di necessità. Gli spostamenti dei sacerdoti sono invece giustificati da comprovate esigenze lavorative. Sono sospese invece le celebrazioni delle cresime, delle prime comunioni e dei matrimoni. Eccezionalmente si potrà derogare al divieto chiedendo autorizzazione alla curia e comprovando la richiesta con motivazioni di grave necessità. La celebrazione del battesimo è consentita al di fuori della Santa Messa e alla presenza dei soli padrini e dei familiari più stretti. Il sacramento della penitenza può essere amministrato in luoghi ampi areati che consentano a loro volta il pieno rispetto delle misure di distanziamento, indossando sempre la mascherina. Funerali celebrati solo con stretti familiari sono vietate le esegue dei defunti. Qualora espressamente richiesta, è consentita una benedizione del feretro al passaggio davanti alla chiesa o all'ingresso del cimitero, sempre alla presenza degli stretti congiunti. Sospesa la visita ai malati dei ministri della comunione eucaristica, i sacerdoti potranno rendersi disponibili solo in caso di situazioni gravi e laddove richiesti per l'amministrazione delle confessioni, dell'unzione e del viatico, osservando le prescrizioni dovute. Per rapportare la comunione ai malati, che per lungo tempo non possono entrare in chiesa, i parroci, valutando l'opportunità, potranno affidare questo compito a un parente convivente con il malato che sia affidato e conosciuto dai sacerdoti della parrocchia. Infine, sospesa ogni tipo di catechesi e di riunione in presenza, potranno continuare solo in remoto.